Roma è alle prove generali per accogliere senza intoppi il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che atterrerà questa sera all'aeroporto di Ciampino. Per l'occasione la questura di Roma ha pianificato misure di massima sicurezza. È in corso la bonifica di Villa Taverna, la residenza dell'ambasciatore americano John Phillips, nel cuore dei Parioli, dove Obama risiederà durante il suo soggiorno romano. Le mura di cinta di Villa Taverna sono già presidiate da polizie e carabinieri e unità cinofile ne sorveglieranno il perimetro. Il piano di sicurezza messo in campo dalla città eterna è imponente. La polizia fluviale sta lavorando alla bonifica degli argini del Tevere nelle zone sensibili ed è inoltre prevista vigilanza aerea. 16 autoblindate e 8 moto scorteranno Obama che domani, 27 marzo, sarà ricevuto in Vaticano da Papa Francesco per poi incontrare il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Premier Matteo Renzi. Massimo riservo sui percorsi di Obama, che però ha già reso noto che tappa irrinunciabile sarà il Colosseo, che resterà chiuso ai turisti durante il tour del Presidente, mentre tutta l'area circostante sarà blindata e sorvegliata, con strade chiuse e traffico deviato, regalando un centro storico fuori dal tempo, almeno fino a quando l'Air Force One e il Presidente saluteranno Roma da un'altra.